Ah già, avete moglie voi, eh? Io e me, la mia l'ho perduta. Perduta? Colpa complettica? Un ictus? No. Un imparto? Una morte improvvisa? Un soldato. L'avevo lasciata su una panchina alle tuerie e gli avevo detto aspettami cinque minuti, vado dal tabaccaio a prendere un sigaro. Ma non l'ho più ritrovata. Suonano? Ah, bene. Signore? Per di là un signore che ha bisogno di parlarvi. Ecco il suo biglietto da visita. Oh, vogliate scusarmi, signor Bassinè? Ma chissà chi potrà essere? Vediamo allora. Oh, vogliate scusarmi, signor Bassinè, ma voi capite? È un secatore, eh? Ma non posso esimermi da riceverlo qui, se volete andare. Ah, non un secatore, so io come si fa con i secatori. Eh, io mi siedo qui. E lui sarà costretto ad andarsene. No, non potete perché, vedete, desidera parlarmi a quattro occhi. Ma chi è questo secatore? Ah, è il scema sì, lo conosco benissimo, scema sì. Oh, avrò il piacere di salutarlo e vedrà dopo. No, non potete. Dove è lui? È suo padre. Ma non l'ha mai avuto? Eh, allora lo zio. Insomma, non desiderà di essere visto. Quindi andatevene, andatevene. Oh, beh, aspetterà qui. Non se ne va a peggio per lui, lo faccio aspettare tutta la giornata.